Ehi là, benvenuti in un nuovo video. Questa volta parliamo di una distribuzione Linux molto particolare, molto di nicchia, ovvero parliamo di NixOS. In questo video farò una mia personalissima recensione su questa distribuzione Linux, come mai si parla di distribuzioni Linux mutabili e se effettivamente quali sono i pro e i contro che si possono incontrare utilizzando una distribuzione Linux di questo tipo. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare, puoi seguirmi su Telegram, Teconsapevole per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla tecnologia e Teconsapevole Crypto per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle criptovalute. E se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Teconsapevole Academy. Li carico molti altri video che non sono presenti su YouTube. Ok, allora, questo è il sito ufficiale di NixOS e se cliccate play su questa schermata qua nera, vi fa vedere un pochino quali sono le funzionalità di questa distribuzione Linux. Questa distribuzione Linux tra l'altro non è neanche particolarmente recente. Se andate su Wikipedia questa distribuzione Linux esiste dal 2003, quindi sono vent'anni che esiste questa distribuzione. E io mi ricordo che parlando con un'altra persona di quanto era bello React.js per programmare, quindi la libreria JavaScript di interfacce, gli dicevo che era bellissima perché appunto permetteva di programmare con l'immutabilità. Quindi dando degli input si ottenevano sempre uno stato consistente di output. Al che lui era più che altro sistemista e mi dice, sai che c'è anche una distribuzione Linux che funziona in modo simile, si chiama NixOS e questa cosa sarà stata tipo dieci anni fa. Al che sono andato a vedere all'epoca NixOS e non è che ci avevo capito molto. E in effetti questa distribuzione Linux applica le stesse regole che vengono applicate nella programmazione, li applica nella configurazione di una distribuzione Linux. Ora a sentire questa cosa così in modo astratto può sembrare una supercazzola. In realtà questa distribuzione Linux è veramente interessante, anche se non so se mai uscirà dal suo stato di nicchia. Ultimamente ho visto altre persone che ne stanno parlando perché ha aggiunto un installer che è molto facile da usare come una distribuzione Linux qualsiasi e quindi vi permette di provarla. Tuttavia una volta installata dovete praticamente reimparare ad utilizzare Linux perché funziona in modo veramente diverso. Allora vediamo invece cosa ci dice Wikipedia come killer feature di questo progetto. Allora ci parla di astrazione, quindi con NixOS praticamente avete un linguaggio di configurazione, quindi non di programmazione, di configurazione, che vi permette, che appunto è il linguaggio Nix, che vi permette appunto di configurare in un solo linguaggio tantissimi altri software. E normalmente i software su Linux ognuno ha il suo modo di scrivere le configurazioni sui file. Qualcuno ce li ha in JSON, qualcuno bisogna dare dei comandi, qualcuno ce li ha in TOML. Il vantaggio di utilizzare NixOS è che essendo che non c'è nessuno standard riconosciuto per fare le configurazioni dei file, perlomeno quelli, che ne so, dei web server o altre cose di sistema, con NixOS abbiamo uno standard, quindi sembra un po' il meme che ci sono 12 standard e si inventa il tredicesimo standard che dovrebbe risolvere la situazione. Di fatto questo è vero, se un software è supportato da NixOS, questo software appunto può essere configurato nel linguaggio di NixOS. Riproducibile, quindi la cosa interessante è che, a differenza di altre distribuzioni, qui è molto facile, dato un certo input di software, ottenere uno stato che è sempre uguale, indipendentemente da chi esegue questi comandi. E appunto ogni tanto capita che un software funziona in una certa distribuzione Linux, non funziona in un'altra, oppure a seconda del, se qualcuno utilizza delle versioni diverse di librerie, di altre cose, non è detto che questo software funzioni sempre allo stesso modo. Questa è una cosa che è importante sia dal punto di vista della stabilità che dal punto di vista della sicurezza. Altra cosa interessante che viene citata sono gli aggiornamenti atomici. Quindi a differenza di Arch Linux, Fedora, Debian, in NixOS abbiamo degli aggiornamenti che o funzionano oppure si torna alla versione precedente dello stato dell'installazione. Questa cosa, anche questa, è molto importante dal punto di vista della stabilità. Quindi immutabilità, appunto, diciamo che tutte le cose le modificate attraverso Nix e quindi, o perlomeno, tutte le cose di sistema vengono modificate tramite il sistema di Nix. Se qualcuno va a modificare a mano questi file all'interno delle configurazioni, è molto probabile che se sono configurazioni di sistema vengono poi sovrascritte. Quindi l'immutabilità è un po' un'arma a doppio taglio su questa cosa. E poi c'è, appunto, questo sistema di pacchetti che si chiama Nix. Quindi anche qua, comunque, i software devono essere supportati, integrati in Nix per funzionare. Giusto per farvi vedere un po' di sofferenza, questa qui è l'installazione, anzi, l'aggiornamento di un sistema operativo Debian. Non è una cosa che si può fare così all'improvviso perché quando voi date il comando distupgrade, quindi fate un salto di versione su Debian, appunto, vengono scaricati nuovi software, vengono scompattati, si controlla che le configurazioni siano compatibili e ogni tanto vi vengono anche chieste, appunto, vuoi tenere la configurazione vecchia, vuoi tenere quella nuova? È una cosa che prende tempo a chi è che la fa e prende tempo anche al, appunto, chi è che deve rispondere a queste domande che vengono fatte. Questo è un esempio che ho fatto ultimamente, aggiornando un sistema operativo Debian. Ci sono volute due ore, anche se nel frattempo ho fatto anche altre cose e quello che vedete nella linea rosa è effettivamente l'aggiornamento che fa cose, scarica, poi fa domande, quindi aspetta che qualcuno gli dia una risposta e va avanti. Questa cosa in XOS l'ho fatta e effettivamente passa da uno stato, diciamo, stato iniziale, a uno stato aggiornato con un solo comando senza farvi domande e senza fare strane sorprese. Qui nel caso in questione si trattava di modificare comunque 1855 pacchetti, quindi per passare da Debian 11 a Debian 12 e, appunto, questa cosa ci è voluto molto tempo, ma non è tanto il problema del tempo che dipende anche dal tipo di computer, più che altro da queste interruzioni che ti vengono fatte a chi è che deve, appunto, occuparsi di questo aggiornamento. Poi, per carità, Debian stabile, diciamo, normalmente non fa sorprese, tuttavia, appunto, per un certo periodo di tempo il computer in questione è, diciamo, in sovraccarico e poi c'è un tempo dove, appunto, bisogna riavviare il computer e quant'altro. Questa cosa in NixOS non funziona così e questo qui praticamente è il mio utilizzo di NixOS, visto che una persona che vede questo sistema operativo per la prima volta, giustamente uno si chiede ma potrei utilizzare Docker, non capisco cosa serve in NixOS. In NixOS, tutte le configurazioni si trovano all'interno di questo file etc.nixos.configuration.nix configurazioni, ripeto, più che altro sono software di sistema, quindi non GIMP che lo andate a installare nella vostra home, ma cose più simili a web server e cose di questo tipo. Questo file configuration.nix praticamente racchiude tutte le modifiche fatte lo stato che vorrei ottenere in una nuova installazione. Quindi volendo io potrei fare il copia e incolla di questo file su un altro computer e ottenere lo stesso stato, quindi gli stessi software installati, configurati in un certo modo che ho appunto sul computer dove ho fatto questo tipo di aggiornamento. C'è diversa roba in questo file, in realtà molte delle cose che sono scritte in questo file sono state scritte dall'installer, quindi non le ho scritte io. Quindi ci sono cose come il layout della tastiera, l'utente presente nel sistema, che in questo caso si chiama user, quali gruppi fa parte. Quindi invece di dare una serie di comandi, che c'è il rischio che magari risaltando un comando si arriva a una configurazione non consistente. Qui abbiamo proprio la rappresentazione del sistema con questo linguaggio che è appunto il linguaggio Nix. Quindi in questo caso non dobbiamo fare il comando userad per aggiungere un certo utente a un gruppo, ma ce l'abbiamo scritto all'interno di questo file di configurazione. Queste sono invece alcune modifiche che ho aggiunto io, proprio perché volevo vedere quanto era affidabile e quanto era utilizzabile questa distribuzione. E quindi qua ho aggiunto il supporto a Spice VD Agent, che serve appunto a integrare questo sistema operativo in una configurazione dove c'è comunque il sistema host, dove poi viene virtualizzato appunto un altro sistema operativo, in questo caso Nix OS. E l'altra cosa abbastanza curiosa, a parte la sintassi, che in effetti è un po' strana per chi è che la vede per la prima volta, è che in alcuni casi, per esempio per i software che fanno parte dell'ambiente GNOME, c'è una serie di programmi che non sono interessato ad installare. In questo caso qua vengono rappresentati come exclude packages, quindi in realtà vado a dire quali software non installare. Questa è una cosa abbastanza curiosa. Cosa che invece negli altri sistemi operativi semplicemente uno non li installa oppure li installa singolarmente. L'altra cosa interessante però è che attraverso questa distribuzione Linux si può scegliere effettivamente anche i software secondari. Per esempio una cosa che mi capitava con Ubuntu e con Debian, quando io installavo Dash2Panel come diciamo estensione di GNOME, ogni volta che facevo un salto di versione venivano disabilitate le estensioni esterne. in questo caso invece mi ha mantenuto la consistenza, quindi con questa sintassi potete specificare che volete Dash2Panel e quindi viene installato il diciamo l'aggiornamento anche di questa estensione anche se non si tratta di un software indipendente. l'altra cosa che appunto ho aggiunto tra i pacchetti installati a mano è Wayland a mano rispetto diciamo l'installazione standard Wayland e Htop quindi quelle che abbiamo visto prima sono le mie configurazioni che sono abbastanza poche e tutto il resto ho installato il sistema diciamo di default come veniva diciamo suggerito dall'installer qui appunto per farvi vedere questo è Nautilus 44.1 che è quello attualmente disponibile in NixOS stabile e quello che vado a fare è proprio un salto di versione anche con NixOS quindi un aggiornamento di quelli più grandi dalla versione stabile alla versione non stabile e la cosa interessante è che potete utilizzare NixOS sia come distribuzione diciamo point release quindi attualmente la versione stabile è 23.05 ma se volete una versione tipo Arch Linux che si aggiorni in continuazione potete mettere NixOS unstable in questo caso verranno presi tutti i programmi appena inclusi in questa distribuzione quindi funziona un po' come Alpine Linux che potete decidere di mantenerla sia stabile a una certa versione e sia in modalità rolling release quindi aggiungere le cose appena vengono supportate da una certa distribuzione ok quindi questo è dove ho provato NixOS quindi queste qui sono le configurazioni disponibili su questo computer e come vedete qua dice GNOME 44.2 però quello che dovete vedere è questo 23.5 quindi la versione stabile e kernel 6.1.35 adesso la cosa interessante è che qua non si va né a mettere né a togliere programmi semplicemente si dice voglio che lo stato della mia distribuzione linux sia un altro quindi qua vado ad aggiungere il canale NixOS Unstable quindi passo da quello stabile a quello non stabile per avere gli ultimi software a disposizione qui controllo che sia effettivamente installato e a questo punto do il comando che sarebbe l'analogo del distupgrade quindi per fare il salto di versione in questo caso è nix os rebuild switch upgrade quindi questo comando praticamente ci sostituisce la versione stabile con la versione non stabile ed è anche il diciamo il passaggio quello che richiede più tempo la cosa interessante di nix os è che vi permette di tornare eventualmente a uno stato precedente di installazione come vedete è molto particolare perché questo è il file system nix come vengono organizzati file quindi non vengono installati in user share ma c'è proprio un altro tipo di organizzazione e vengono creati appunto dei link simbolici all'ultima versione che vogliamo utilizzare di un certo software ok quindi come vedete anche qua ci va tempo se andate a cambiare tanti file ok quindi si occupa anche di gestire le configurazioni per esempio per systemd dei nuovi demoni installati ok e questo è lo stato finale ok qui non ho ancora riavviato il sistema operativo quindi mi dà ancora che alcuni programmi sono alla versione vecchia però dovrebbe già dare qua ok comunque eccolo qua quindi nixos 23.11 tapir quindi qui non ho ancora riavviato la distribuzione di fatto mi ha applicato gli aggiornamenti senza appunto fare altre domande ha gestito tutte le migrazioni in automatico e anche qua la versa di nautilus è ancora vecchia perché devo ancora riavviare e ok qua faccio riavvio quindi l'altra cosa interessante di questa distribuzione linux è che non utilizza grab ma utilizza systemd boot quindi vi permette appunto di scegliere di passare a una versione precedente e tuttavia quando si parla di immutabilità bisogna sempre fare attenzione che appunto si parla di livello di sistema cioè se voi avete comunque fatto degli aggiornamenti che vi hanno cambiato dei file nella vostra home delle configurazioni questa cosa voi volendo potete tornare indietro a una versione precedente però non è detto che le versioni di configurazione presente nella home siano effettivamente retrocompatibili con la versione precedente normalmente c'è sempre la compatibilità in avanti e non la compatibilità indietro quindi questa cosa va bene per diciamo la gestione del sistema operativo se se si tratta invece di configurazioni utente diciamo che dovreste avere btrfs o comunque farvi comunque un backup anche delle configurazioni utente se volete veramente avere la possibilità di tornare indietro nel caso in cui qualcosa non funzioni e questo è come si presenta appunto il boot di questa distribuzione linux ok ok quindi l'aggiornamento è andato a buon fine non ci sono grandissimi cambiamenti dalla versione stabile alla versione non stabile di nixos visto che comunque l'ambiente gnome è sempre versione 44 quindi non c'è molta differenza in questo tuttavia è stato interessante fare questa cosa per capire effettivamente come funziona questa distribuzione e vedere effettivamente quali sono le i pro e i contro di questo approccio allora conclusione ha senso utilizzare questa distribuzione linux al posto che ne so di debian più docker compose o altri sistemi secondo me attualmente no proprio perché se un software non è pacchettizzato per nixos non è immediato gestire questa cosa visto che la distribuzione linux è molto diversa tuttavia è una distribuzione linux secondo me interessante da tenere in considerazione proprio perché vi permette di avere degli aggiornamenti atomici quindi in determinate situazioni che magari utilizzate dei software che sono comunque supportati da nixos effettivamente ha senso utilizzare questa distribuzione un altro approccio potrebbe essere quello di utilizzare nixos come base del sistema operativo e utilizzare che ne so docker compose o altri sistemi di container per avere sia i vantaggi di una distribuzione immutabile ma anche i vantaggi di avere dei software che comunque sono testati su distribuzioni quelle diciamo più classiche quindi più supportate ci sono moltissimi altri argomenti di nixos che non ho trattato perché sono veramente troppo specifici e onestamente non so quanto valga effettivamente la pena investire su una distribuzione del genere se uno non ha delle forti ragioni per farlo tuttavia è interessante quindi se avete delle situazioni dove volete avere veramente un sistema stabile che non faccia sorprese ma al tempo stesso sia diciamo sempre testabile con le ultime versioni dei software questa cosa è interessante questa è la mia panoramica di nixos appunto non sono entrato troppo nei dettagli di nixos perché veramente è molto diversa dalle altre distribuzioni tuttavia è qualcosa che se utilizzate i software presenti in nixos quindi se voi andate sul sito ufficiale e andate qua su search potete cercare il nome di un pacchetto per esempio io qui avevo cercato spice vd agent e questa cosa vi spiega appunto come installarlo come configurarlo peccato che appunto come dicevo non sempre il modo di configurare questa distribuzione è quello che normalmente fareste con una distribuzione linux normale per esempio qua vi dice di mettere spice vd agent all'interno dei system packages in realtà quello che poi ho fatto come andate a vedere la parte prima del video alcune cose vengono gestite in modalità diversa quindi non è detto che il pacchetto vada effettivamente esplicitato qua dentro in alcuni casi come avete visto prima ho messo spice vda agent true e questa cosa mi è stata supportata senza altre cose peccato che non è esplicitato nella documentazione ufficiale questa cosa quindi ci sono comunque delle stranezze che vanno approfondite se volete utilizzare seriamente questo tipo di distribuzione questo è tutto come sempre lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video fatemi sapere voi cosa ne pensate di nixos nei commenti e ci vediamo in un altro video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti